a tale quale con torn natalie imbruglia il suo ruolo è venuto come in una città mi mostro il suo giallo quando non sei stato il tuo figlio che io adoro non sembra che non sapevo capire ma cosa il tuo cuore è il tuo cuore non lo conosco più non lo conosco non lo conosco non lo conosco la conversazione ha riuscito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti